Musica Amici sportivi buonasera appuntamento consueto dal Pazzesco Sport di Forte Anarmi per la conferenza stampa dell'Alimac e Forte Anarmi in vista delle due partite che aspettano la prima squadra sabato in trasferta a Follonica poi martedì sera il derby con il centro Giovanni Viareggio risponderanno alle domande dei giornalisti in studio l'allenatore Jorge Valverde e il giocatore Eric Torner faranno le domande Gabriele Buffoni del Tireno Fabrizio Ercolini per Forte Channel e Andrea Meccheri per l'ufficio stampa dell'Occhi Club Forte Mani a loro passo subito il microfono Partirei con una domanda per entrambi passata ormai una settimana poco più dall'arrivo di Orge qui a Forte dei Marmi voglio sapere come l'ha vissuto appunto il nuovo mister e anche come l'ha vissuta la squadra questa scossa questo cambio d'allenatore Buonasera sì beh niente sono arrivato il primo allenamento che ho fatto è stato mercoledì scorso sì ho notato che c'era un po' di intranquillità praticamente non erano molto sereni era un po' ho trovato un ambiente un po' un po' pesantino preoccupati nonostante le qualità dei giocatori però c'era questa preoccupazione e subito abbiamo dovuto parlare insieme insieme alla squadra e cercare una alla volta le difficoltà e poter lavorare su quello praticamente forse sì c'era un po' di intranquillità perché per tanti alla nostra squadra è la prima volta che succede questo che si cambia un allenatore quando ancora non si è finito il campionato ma noi siamo convinti di essere qui per vincere e se è successo questo ora dobbiamo ancora lavorare di più per il nostro tifo per la nostra gente anche per il nuovo allenatore che è arrivato a essere convinti del suo lavoro o per così poter poter arrivare al play off giocando forse un po' meglio di quello che abbiamo fatto finora bene intanto i complimenti sia al mister che alla squadra nella persona Eric Turner per la prestazione perché effettivamente è stata una prestazione maiuscola erano mesi che non vedevamo un forte così convincente ormai e naturalmente questo è merito di una ritrovata serenità o quanto meno insomma di una scossa che giustamente la società ha voluto dare alla formazione invece in previsione futura abbiamo un pacchetto di gare tutte ravvicinate adesso praticamente ci giochiamo tutto il campionato nell'arco di due giorni di recupero da una all'altra verrà fatto ciò di un lavoro particolare proprio per questo ricordo sabato perciò domani con il Follonica poi abbiamo subito il viareggio poi andiamo a passano poi inizia il playoff tre gare a settimana pensi di poter avere tempo per ricostruire qualcosa a livello fisico o la squadra l'hai trovata già in forma dal punto di vista proprio fisico sì hai ragione dunque tempo ne ho ben poco ben poco di poter magari poter lavorare come vorrei come mi piacerebbe inserire tante altre cose importantissimi per potersi giocare il titolo però condizione fisica secondo me la questione mentale ha influito molto la questione fisica giocatori che sono stati magari non lo so che avevano tanti chilometri fatti tanti chilometri fatti non è questione di fisico secondo me è una questione psichica che non fisica e i ragazzi sono pronti bisogna il tempo è quello il miglior alleato adesso per me e anche per loro perché ci sono delle cose che magari bisogna curare e invece ne ho ben poco adesso grazie a dio insomma abbiamo raggiunto essere primi nella regolar season questo ci consente anche se io come i giocatori vorrebbero vincere sempre per carità però devo sacrificare e nonostante non è detto che andiamo a perdere però devo provare delle cose per eventuali nel playoff che logicamente uno sbaglio paghi caro e quindi adesso da folonica possiamo andiamo per vincere tutte le partite devo fare un passo piccolo alla volta un passo piccolo alla volta perché non ho il tempo non ne ho e quindi di arrivare ai playoff già con le idee abbastanza chiare e insistere almeno quel piccolo che posso dare questione ragazzi sono sono a posto sono a posto ragazzi non non ci sono problemi giro appunto la domanda a enric che brucia ancora l'eliminazione dalla coppa però abbiamo visto una bellissima reazione nell'ultima partita a questo punto si tratta di dare continuità la squadra è pronta a seguire tutte queste nuove indicazioni sì io sono un giocatore che quando si perde si perde e ora manca un obiettivo non devo credo che non dobbiamo perdere il tempo a pensare quello che abbiamo perso sino a pensare che dobbiamo fare per vincere penso che questa partita contro il breganze abbiamo fatto un bel gioco anche l'allenatore ha detto che dobbiamo essere molto più seri in defesa perché hanno fatto sette gol ma va bene per iniziare va venire una vittoria così essere primi in regolar season è una cosa molto importante per giocare una gara in più in casa ora mancano tre partite per quello che ha detto giordi di arrivare bene al playoff e quello questo questo dobbiamo fare domanda per il mister domani appunto affronterete il folloni che è una trasferta che se per il forte che ha già conquistato il primato appunto è abbastanza diciamo tranquilla anche dal punto di vista mentale per il follonica che lotta per una per mantenere per conservare il settimo poste in classifica quindi un poste playoff è una partita decisiva ci sarà un po di turn over come anche giostrerà la panchina anche per far ribosare sappiamo che motarana è rientrato da poco da insomma un infortunio anche pedro era un po affaticato insomma ci sarà un po di attenzione anche da questo da questo punto di vista turn over io non considero che per esempio se un giocatore una partita non ha giocato non sia titolare faccio un esempio il signor verona il signor verona ovviamente io sono arrivato non neanche visto ho parlato personalmente anche con lui arrivato di una preparazione con la nazionale era un po affaticato era una partita molto importante la del breganze molto importante io ho giudicato quel punto lì di andare sul sicuro di andare sui punti di assicurarsi il primato non è che no è sconfia che non ho confio con il signor verona no assolutamente adesso si è inserito ho potuto lavorare ho potuto lavorare vederlo almeno un paio di lamenti perché allenamenti non abbiamo così tanti ho visto anche per per cd come si muove e ovviamente entra in rossa tranquillamente è un titolare come come un altro ovviamente a folonica noi andiamo per vincere sicuramente si proverà delle cose dobbiamo girare a una a un ritmo molto elevato giocatori ne ho perché non approfittarne e anche secondo me il signor benone è una garanzia e ci può dare tanti contributi dunque questa è per enric abbiamo detto follonica sabato e poi arriva la partita con il centro ciò derby sai quanto è importante per tutto forte dei marmi anche alla luce di quello che è successo quest'anno dove l'abbiamo affrontati per tre volte abbiamo vinto l'unica partita che non contava quella in amichevole oltretutto di misura e poi ci hanno messo sotto ciò qui bisogna effettivamente lanciare un messaggio ai nostri tifosi il messaggio lo lascio perché capisco che per questo paese è molto importante io sono convinto della mia squadra sono convinto che possiamo vincere abbiamo bisogno anche di una tribuna piena e ora come giocatore ti dico che la mia testa non è nella partita del viareggio ancora dobbiamo giocare quella del folonica che non sarà facile per il paese dico voglio vorrei un palazzetto pieno per la mia squadra dico dobbiamo andare a follonica a vincere a proposito di tifosi ci sono qualche domanda che viene proprio da loro comincerai con giordi gli chiedono se è stato più difficile allenare la testa o gli schemi dei giocatori in questi giorni no, gli schemi no perché subito si sono dimostrati professionisti non sono tra virgolette stupidi non capiscono subito al volo e più che altro sono stati un po' sotto di morale magari per risultati antecedenti che non ha portato la vittoria e quindi il giocatore ovviamente un potenziale così come il forte di Marmi che già ce l'hanno nel DNA che vogliono vincere anche gli allenamenti vogliono vincere e portare un periodo non positivo allora questo li ha affettati un po' è questione semplicemente di fare un po' di carica di dare la dose giusta per crederci che possono avere fiducia in se stessi la prima cosa perché è così prima mi dovevo un vuoto in ciascuno e questo non è così siamo una squadra, siamo una famiglia e si porta avanti nella stessa barca tutti quanti del primo all'ultimo e andiamo avanti tutto lì sempre dai tifosi una domanda per Enric abbiamo rivisto la coppia dell'anno passato Enric e Pablo molto sciolta in campo molto veloce cosa è cambiato? non è cambiato nulla noi abitiamo insieme siamo amici per noi è importante anche in campo stare bene forse ultimamente non è stato così ma non è che è cambiato nulla noi siamo sempre amici e ci fa piacere giocare insieme siamo più o meno della stessa età fisicamente siamo simili, veloci va bene dopo c'è questa compenetrazione e speriamo anche di continuare così fino alla fine una domanda per il mister ti giro un po' quella che prima è stata fatta anche a Enric in vista proprio del derby di martedì come abbiamo detto sono tre partite molto ravvicinate però sicuramente tra le tre il derby con il centro giovani è quella più sentita anche dal pubblico quanto è importante per te che hai appunto svolto in queste settimane un lavoro come hai dichiarato anche a livello psicologico molto approfondito con i giocatori ecco quanto sarà importante fare un buon risultato contro il centro e anche cosa ti aspetti da questo centro giovani che è un po' anche la rivelazione di quest'anno perché due volte è riuscito appunto a battere questo forte dei marmi beh io ho potuto vedere qualche filmato adesso come adesso io secondo me oltre a Preganze secondo me il Viareggio che sta giocando sta giocando bene ultimamente sta giocando molto bene noi dobbiamo affrontare la partita come professionisti per vincere un po' di più forse per dare l'orgoglio ai cuori dei forti marmini di darle un regalo che potete regalargli una vittoria in casa contro i cugini ovviamente è una partita importante noi giocheremo molto più sicuramente molto più determinati molto più tranquilli perché abbiamo intanto il primo passo l'abbiamo fatto è quella di qualificarsi il primato adesso subentra una partita che lo facciamo per il cittadino dei forti di barmi un regalo che dobbiamo vogliamo dargli questo bene abbiamo concluso dal passato sport dei forti di barmi per questa conferenza stampa forse stasera avremo avuto necessità di maggior tempo perché le partite sono due importanti e anche il momento è di quelli importanti io ringrazio Jorge Valverde e Rick Torner per aver risposto alle domande dei giornalisti in studio prima di salutarvi vorrei ricordare che l'Under 15 ha conquistato il secondo posto al torneo di Montreux quindi un'affermazione abbastanza importante e vi do appuntamento sabato eventualmente la folonica per chi vorrà venire in trasferta ma soprattutto martedì sera alle ore 20.45 per il derby fra Forte del Marmi e Cento Giovanni e Viareggio grazie di tutto arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti.